pace bene cari amici bentrovati con la domenica delle palme inizia la settimana santa settimana centrale cuore di tutto l'anno liturgico la liturgia di questo giorno inizia con la proclamazione del vangelo secondo matteo dell'ingresso messianico di gesù a gerusalemme con l'acclamazione della folla festante quindi la lettura dei due capitoli 26 e 27 del testo matteano inerenti la passione di gesù potremmo dire che la liturgia di oggi ha un sapore dolce amaro dove gioia e dolore si manifestano come le due facce dell'unica medaglia dell'amore la gioia che dà l'accogliere gesù il sentirsi profondamente amati da lui e il seguirlo il dolore che esso può anche comportare perché seguirlo significa imparare ad amare a donarsi fino in fondo fino al dono totale di sé fino alla croce partiamo dunque dall'inizio della liturgia il testo che ci mostra l'ingresso messianico di gesù i giudei attendevano la venuta del messia che si sarebbe manifestato su un cavallo avvolto con un manto di luce che avrebbe condotto il suo popolo alla gloria ecco invece gesù entrare a gerusalemme mite e umile su un asinello la sua non è la via della gloria ma la via dell'umiltà il suo trionfo non passa dal dominio ma dal dono di sé è interessante perché tutta la folla lo acclama piena di gioia noi vogliamo unirci spiritualmente alla gioia di questa folla e acclamarlo come figlio di davide come messia come nostro salvatore in fondo la vita cristiana nasce e si alimenta di questa gioia la gioia dell'aver riconosciuto l'amore di dio in gesù di averlo accolto come nostro signore la gioia di sapersi profondamente amati da lui cristo mi ha amato dice san paolo e ha dato se stesso per me noi abbiamo bisogno di riscoprire quest'amore folle di dio per noi vedete in natura i fiori sbocciano in virtù di una legge intrinseca una persona sboccia soltanto se e quando si scopre profondamente amata e l'amore più profondo radicale totale è quello di cristo e quello di dio che muore per ognuno di noi mentre noi tante volte non accettiamo la nostra storia non ci piacciamo per come siamo vorremmo essere altri e diversi da noi stessi il figlio benedetto di dio si fa uomo come noi come me come te gridando con la sua vita guarda quanto ti amo allora da questo inizio della liturgia vogliamo cogliere questa gioia di saperci amati questo desiderio di voler seguire gesù ciò che conta non è solo sventolare dei rametti o portarne a casa di benedetti ma è rideciderci a seguire cristo colui che illumina di verità e di senso le nostre vite e ci aiuta a fare della nostra vita un capolavoro il secondo punto della riflessione verte invece sul tema della passione che come vi dicevo è tratta dai capitoli 26 e 27 del vangelo secondo matteo il testo della passione un testo ampissimo meraviglioso innanzitutto vi do un suggerimento pratico leggetene magari un po per volta con calma ogni giorno della settimana santa e lasciatevi interpellare nel vostro cuore ci si può soffermare ad esempio su una particolare scena ci si può mettere nei panni dei vari personaggi si può mettere in luce in particolare l'agire il sentire di gesù insomma lasciatevi guidare dallo spirito santo in questi brevi minuti io vi propongo giusto alcune domande di riflessione in base a sette scene che potremmo trarre dal testo mettendoci un po nei panni dei personaggi nella prima scena vediamo giuda che vende gesù perché perché probabilmente non corrisponde alle sue attese lo vorrebbe diverso secondo alcuni studiosi vorrebbe addirittura smuoverlo e scuoterlo perché agisca come giuda penserebbe giusto cioè con la rivolta con la forza ci potremmo chiedere ma io sono forse come giuda sono pronto a vendere il signore quando la sua strada non segue i miei progetti sono pronto a inveirgli contro quando le cose nella vita non vanno come vorrei nella seconda scena siamo nel cenacolo gesù istituisce l'eucaristia segno e sacramento della sua presenza in mezzo a noi segno del dono totale della sua vita per ognuno di noi e tutto ciò accade proprio mentre viene tradito il tradimento diventa il luogo della piena manifestazione dell'amore di dio per noi e noi ci potremmo chiedere ma io sono forse come discepoli che tradisco facilmente il signore preferendogli altro quali sono quei luoghi dove sono maggiormente infedele o sono forse come loro che partecipano a quel momento a quell'eucaristia senza la consapevolezza grande di ciò che cristo sta facendo per loro e che meraviglia soffermarsi sull'amore folle di dio proprio mentre viene tradito lui si dona fino in fondo ecco il suo amore per me e per te ecco quell'amore a cui possiamo attingere per riuscire ad amare tutti un po di più nella terza scena eccoci nel gezzemani gesù chiede ai suoi amici di vegliare e pregare con lui ma essi cosa fanno si addormentano cristo agonizza ed è abbandonato dai suoi amici potremmo chiederci forse ho fatto anche io così quando le cose si fanno difficili abbandono facilmente la preghiera sono non curante indifferente freddo davanti alla sofferenza degli altri chissà quante volte abbiamo lasciato solo cristo nei fratelli nei momenti di maggior difficoltà e bisogno e gesù invece prega si continua ad affidare al padre trova in lui la forza per donarsi a noi fino in fondo ed ecco l'arresto giuda tradisce gesù con un bacio snatura un gesto d'affetto per vendere il suo maestro potremmo chiederci sono forse anche io così che manipolo persino le relazioni per il mio tornaconto sono forse io traditore e gesù cosa fa lo chiama amico continua a volergli bene a richiamarlo alla sua responsabilità invitandolo a scendere nella sua interiorità a rendersi conto di dove lo possono portare le sue azioni dandogli ancora un'altra possibilità ed ecco il discepolo che cerca di difendere gesù con la forza sono forse anche io così che cerco di imporre agli altri le cose usando facilmente modi forti violenti o manipolatori e gesù cosa fa invita alla non violenza alla pace ed eccoci al processo farsa dove ciò che conta è accusare gesù e farlo fuori e ci potremmo chiedere sono forse anche io così sono incapace di accogliere la verità da qualsiasi parte essa mi arrivi perché chiuso nei miei schemi nelle mie convinzioni incapace di lasciarmi mettere in discussione da dio e dagli altri e ancora eccoci davanti a pilato nella sesta scena che coglie l'innocenza di gesù viene anche avvisato dalla moglie ma non ha il coraggio di opporsi al popolo di rischiare preferisce dar soddisfazione alla maggioranza potremmo chiederci sono forse come pilato quando vedo che la situazione difficile mi lavo facilmente le mani e non so assumermi le mie responsabilità e lascio condannare o condanno io le persone e la folla che poco prima aveva gridato festante osanna al figlio di davide ora istigata al male grida crocifiggilo sono forse come quella folla sono forse incapace di mantenere le mie posizioni e mi lascio facilmente travolgere dagli altri ed ecco i soldati che si prendono burla di gesù hanno trovato qualcuno su cui scaricare le proprie frustrazioni sono forse come loro che quando trovo qualcuno su cui potermi sfogare lo faccio non curante delle ferite che gli reco e infine eccoci sul golgota la scena della crocifissione gesù che fino all'ultimo viene sbeffeggiato umiliato invitato a scendere e fino alla fine non pensa mai un attimo a salvare se stesso ma pensa soltanto a donarsi fino in fondo per la nostra salvezza ed eccolo pregare intercedere morire rimettendosi fiducioso nelle mani del padre attraversando anche il vuoto dell'aridità del non sentire più la presenza di dio ma continuando a fidarsi e a pregare e ad amare fin lì davanti a questo spettacolo d'amore preghiamo che come il soldato romano ognuno di noi possa fare rinnovare la sua professione di fede veramente quest'uomo era figlio di dio che il buon dio vi benedica